Lo dica, lo dica Pelé Rodrigues, professionista numero uno Teoma Mucari Meno uno Bravo, vedete come stanno le cose? Siamo per partire, no, tra pochissimo Lo studio è pronto, ma non posso svelare di più Com'è Belenno? Buona Ma io infatti conosco, almeno 5-30 anni che ho fatto la stessa cosa, c'è pure la mano, capito? Sei bellissima Sei bellissima Sei bellissima No, 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 no